questa è la prima scarpetta della serie ambressa ambressa se vi vengono a trovare amici che non aspettate si presenta vostra suocera tornate tardi dall'ufficio e volete mangiare comunque qualcosa di appetitoso vi propongo la scarpetta i funghi gli ingredienti sono già pronti abbiamo dei funghi trifolati già tagliati surgelati aglio sale olio extravergine il pane che ho già brustolito per praticità e velocità e un peperoncino cominciamo la scarpetta di questa sera velocissima saporita il nostro olio che non può mai mancare nelle nostre ricette possiamo anche abbondare tanto male non so mettiamo un po la fiamma i funghi li potete prendere freschi li potete prendere potete prendere i piedini i porcini quelli che più vi piacciono io ho preso un misto funghi in modo tale che ci sono un po tutti il nostro aglio ecco io in quando preparo queste bruschette abbondo col peperoncino in modo tale che si senta proprio la piccantezza del 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 pane condito facciamo andare un po poi versiamo i nostri funghi una volta che il condimento si è tutto uniformato insieme ai funghi la possiamo preparare le nostre bruschettine allora il nostro aglio e il nostro peperoncino stanno friggendo a questo punto toglierei l'aglio perché è facilmente confondibile con i funghi quindi lo possiamo togliere a questo punto lasciamo il peperoncino così sprigiona ancora la piccantezza sempre accompagnandoci dal coperchio perché i funghi magari hanno un po d'acqua versiamo nella padella i funghi vediamo a che punto sono i nostri funghi a questo punto della cottura ci facciamo una bella spolverata di prezzemolo fresco tritato anche sul gelato va bene e aggiungiamo di sale se preferite anche una punta di dado se preferite ancora più sapore al piatto ecco qui ho scelto i funghi perché quasi tutti quando andiamo a fare la spesa facciamo scorta di surgelati quindi è qualcosa che magari quasi tutti noi abbiamo nel freezer per le emergenze però se non se non vi piacciono questi potete anche prendere non so dei peperoni tagliati delle zucchine è la stessa cosa io adoro i funghi e quindi ho optato per questa bruschetta e in men che non si dica i nostri funghi sono pronti quindi possiamo imparare tranquillamente ecco si presentano colorati mettiamo sulle nostre bruschette precedentemente abbrustolite prima quindi i vostri ospiti saranno contenti poi eventualmente a questi funghi potete anche avvicinarci accompagnarci del salame della del formaggio però questo è già un ottimo antipastino e anche la scarpetta ambressa ambressa è pronta paparapapapapapa paparapapapa paparapapapa Grazie per la visione!